Sì, è tornata Jessica con Bernice e dobbiamo annunciare che questa clinica in zona Malaga la super sconsigliamo soprattutto se non siete spagnoli per fare la visita di controllo altri 90 euro dicendo di prendere ancora per una settimana la pastiglia non ha voluto fare il trattamento che avevamo fatto l'altra volta quando eravamo in zona Cadiz dove hanno fatto un prelievo del sangue ed è stata curata con il plasma qui invece ci ha detto continuata ancora con le medicine con antibiotici e al massimo venerdì vorrebbe rivederla ma non ci veniamo più e vorrebbe rivederla che se non migliora bisogna allora fare l'operazione quando a noi c'era stato detto che guarisce da sola e soprattutto se gli fai un trattamento col plasma non c'è il caso di operarla gli è stato detto guardi che sei mesi fa è stato fatto nell'altro occhio lo stesso trattamento cioè lo stesso trattamento ha avuto lo stesso problema ed è stata curata con non ha voluto neanche sentire parlare semplicemente perché non siamo del posto perché appena Jessica è uscita sono entrati due spagnoli le ha cominciate a raccontare tutta la vita di come è l'occhio come funziona come non funziona e loro trattati a pesce in faccia quindi recensione da mezza stella già messa e sconsiglio vivamente non è tanto per i soldi ma è per la professionalità che non hanno avuto solo perché sono rinomati con il nome del fatto degli occhi se ne approfittano ma non sono qualificati nel fare il lavoro come devono a Rota ci siamo trovati un milione di volte meglio piuttosto facciamo i chilometri piuttosto faccio 200 chilometri e la riporto là guarda ma da questi proprio guarda strasconsigliato niente ora ci mettiamo in marcia ci togliamo da qua che siamo in mezzo alla strada e vediamo ora dove andiamo cosa facciamo che abbiamo da comprare un po' di cose e niente a dopo allora siamo venuti in giù dal vetrinario ci siamo fermati nel parcheggio qua dell'IKEA che ci sono anche altri camper intanto che abbiamo fatto pranzo e siamo andati a fare mezzo giro all'IKEA e da Bricomart che ho preso due cose giusto per non stare fermo senza lavorare e abbiamo preso la corda per fare i giochini a pippo poi ho preso un silicone che l'avevo finito che lo tengo giusto sei in emergenza ti serve per incollare o per sigillare qualcosa delle cinghie a cricchetto queste qua cinghie a cricchetto che mi serve una per la scala del garage perché quella che c'è è di quella a cricchetto ma senza il cricchetto è come questa qua con questi cricchettini fatti così e si vede che non tiene più è andata e non sta più la scala non cricca più per Bernice stiamo valutando perché alle 5 riapre la clinica quella di Cadiz dove avevamo già fatto l'altra volta non l'operazione però la visita dell'occhietto e stiamo valutando di chiamarlo e chiederci a lui se si ricorda di noi spiegandogli un po' il trattamento che gli aveva fatto e cosa è successo ora spiegandogli che purtroppo siamo a 250 km di distanza se riuscisse a fare qualcosa non so magari ha qualche suo collega qua in zona dove siamo ora dove magari ci manda e gli fa il prelievo del sangue con l'estrazione del plasma per fare la stessa cura dell'altra volta o se ha la peggiore proprio all'ultima spiaggia non sa come aiutarci e dice che però la cosa può essere grave piuttosto vado giù a Cadiz e faccio 250 km però noi non vogliamo che il cane stia male ecco e quindi niente ci aggiorniamo ora andiamo a fare gasolio ci muoviamo un po' e poi chiamiamo il dottore a dopo ok come promesso sono le 6 e chiamiamo la clinica lì a Rota vi facciamo vedere la miniatura se la riconoscete nei video precedenti ora li chiamiamo vediamo se riescono ad aiutarci in qualche maniera cosa si può fare se hanno delucidazioni qui non rispondono attacca e cade la linea aperto fino alle 20 bene spero se hai fatto il tuo casino ti sentono si sente che fa la mamma vado a chiamare al mattino ragazzi non risponde nessuno manco all'urgenza vediamo proviamo domani mattina però non era disponibile magari in chiamata con l'urgenza no se hai in chiamata te lo dice subito vediamo domani mattina cosa succede ora stasera ci facciamo un'insalatina e poi vio ciao io passei per lì hace 5-6 mesi nella clinica perché avevo un problema con il mio perro in un ojo e c'era un'urcera il medico e ha detto che è meglio fare un esame di sangria fare una centrifuga e con il plasma che si queda che sia la sangria genial abbiamo trovato la soluzione stato buscando in internet un veterinario qui nella zona che potrebbe fare questo incontrano uno che era specializzato per questo e non mi mi non mi 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 come ha fatto il lavoro, a dire così, questo è stato fatto una settimana, e lui ha detto no, no, le vamos a mettere ora la gotita di colirio, il medicamento di pastiglia, passò una settimana, ora, oggi fuimos per una revisione, ha detto no, ancora la tiene, le puso una lentilla dentro del ojo, e gli abbiamo detto, perché però non facciamo questo medicamento con la sangra che l'altra volta, funzionò molto bene, e non vuoi sapere, mi dice no, il viernes passa una volta, e se non, se non ha un miglioramento, la vamos a operar, e dico bueno, prima di operare, prima di tutto, come, ahi mi encontrò molto bene, e con questo examen abbiamo solucionato il problema in poco tempo, per questo volevo sapere se, se se non si conosce a qualcuno qui nella zona di Málaga, che può chiamarlo per dire, guarda, ti mando un cliente per fare questo examen per il tema di questa ulcera, per non andare io a un veterinario e dire, guarda, mi ha fatto questo examen, e sembra come che voglio sapere il tuo lavoro, mi entiende, che non è il mio lavoro. guarda, perché anche il tema che gli ha messo una lentiglia, come lo vedo? guarda, no, per se a caso, guarda, guarda, sì, perché posso andare a un veterinario qui in a la zona, nel tempo che può contattare a qualcuno, per se a caso, e vedere se encuentro a qualcuno, le explico tutto il problema, che è la verità, e vedere se qualcuno può aiutare, se si anche lo encuentra qualcuno, meglio ancora, ok, ok, perfetto, moltissima grazia, buonanotte, grazie a tali due. ci va detto? niente, che alla clinica sono chiusi per ferie, lei ha una clinica lì vicina, che quando chiudono per ferie si aiutano un po' a vicenda, e le ha lasciato il numero dell'emergenza, e ha risposto lei, e niente, che le urcere così sono provocate da, perché è una femmina sterilizzata, ha avuto il problema della palpebra, sono già portati loro come bulldog ad avere problemi agli occhi, e magari l'altra volta ha detto, si è tolta due strati, o con un ramo, o con una zampa, però metto, preparati, che essendo castrata, aumenteranno sempre di più le urcere, perché può essere la sua lacrimazione, che non è più, non tanto di quanta lacrima fa, ma di che qualità di lacrima ha, quindi dipende, bisognerebbe analizzare la sua lacrimazione, e capire se mettergli una goccia ogni tot di colirio artificiale, di magari ogni ora, per il resto della sua vita, devi metterglielo, se vuoi evitare le urcere. Quindi ora ha detto che prova a contattare qualche suo collega che gli possa venire in mente, della zona di qua, diciamo, dove ho detto che siamo noi, Malaga, Cala de Mica, in questa zona, e gli spiega, e mi fa sapere, che mi ha detto che non è un esame così difficile da fare, nel senso, cioè mi fa strano che mi ha detto una clinica che sia andato, cioè in primis la prima cosa che fai, ancora prima di dare i coliri, fai questo esame del plasma, che è buono, non sempre fa effetto, ma detto, perché mettergli una lente è un terzo passaggio che si fa, prima provi col siero, poi provi con i coliri, e se non va bene provi con la lente e i coliri, e poi al massimo fai un'operazione, ma la lente, mi ha detto, la lente può anche danneggiargli l'occhio, no comment, no comment, decideremo, domani andremo a vedere se troviamo qualcosa, qualcuno che ci può aiutare, se a questo punto si va la rota, è vero che sono altri 200 chilometri, quindi, sono comunque benzina, però, calcolando quello che abbiamo speso, al veterinario le abbiamo dato 200 euro, no 100, 200 euro, no di più, 140 e 90 oggi, sono 290, 210, 230 euro, più 250 euro ci è costato, quando noi, da qui, a rota, sono 240, 220 chilometri, se dovessi tornare qui a Calademica sarebbero 440 chilometri, sarebbe un pieno di gasolio, sarebbero 100 euro di gasolio avremmo speso, e i 150 che mancano, li avremmo dati al veterinario giù per fare l'esame bene, ma non gli avremmo dato 150 euro, perché l'altra volta 17 euro ci ha preso per fare quegli esami lì, avremo 100 euro in più in tasca, e risolto il problema, però, ragazzi, questa è la vita on the road, questi sono i problemi che si possono affrontare vivendo on the road, e non essendo in un punto fisso, che quindi è il tuo veterinario come avevamo noi in Italia o via discorrendo, perché anche la a rota poteva capitarci uno male, e invece per fortuna ci è andata bene, meno male che l'abbiamo trovato che tra virgolette ora siamo tra virgolette vicini, quindi niente, vediamo cosa succederà, e rimanete collegati per gli aggiornamenti, ciao! Ciao! Grazie a tutti.